I partiti mondiali avranno bisogno sempre degli applausi, intanto io propongo da parte del pubblico. Si parte, parte ufficialmente il giro ciclistico produttivo di Trenzino, a tutta, si stanno schierando. Si parte dunque a tutta che qui con il gas aperto con il capitano Sir Bradley Wiggins a tutta. E l'applauso dunque per l'altro, Merida, Biancherola, tutta. Fate anche la Rosvelo un applauso per gli atleti della Rosvelo. E lasciamoli andare, ancora con un applauso. Sento becca, eccoli la via verso Arco, direzione Arco. Ed ora, da meno di tre minuti, prossima... Ed ora, da meno di tre minuti.